Vivo qui a Castel del Mondo ormai da circa 34 anni, dall'inizio dei primi anni 80. Mi trovo qui con la famosa transumanza che si faceva una volta, però quando la facevo io ormai si faceva con i cami, non si faceva più il vecchio tratturo per andare alle Puglie. Poi restando qui a Castel del Mondo, sono rimasto qui a Castel del Mondo e pian piano mi sono innamorato di queste meravigliose montagne di tutto, della natura che ci sta qui a Castel del Mondo, in Abruzzo soprattutto, e invito chiunque a venire qui a Castel del Mondo, a venirci a trovare e faremo delle bellissime gite guidate e poi ci sono i famosi arrosticini, una bella mangiata e invito a tutti a venirci a trovare. Grazie.